La torre del Serpe anticamente fungeva da faro marittimo per segnalare ai marinai la presenza della costa otrantina. Secondo alcuni storici, la sua costruzione avvenne ad opera dei romani nei primi secoli d.C., al contrario del circuito costiero di terra d'Otranto che venne ampliato durante l'epoca spagnola. Una porzione muraria rivolta verso il mare è l'unica testimonianza di ciò che rimane in piedi della torre. La storia dell'edificio si inserisce nelle narrazioni di antiche leggende popolari, in particolare alla presenza di mostri marini serpentiformi, come testimonia anche lo stemma civico di Otranto, che raffigura una Serpe attorcigliata ad una torre. Silenziosa e guardinta, ancora oggi la torre del Serpe osserva il canale d'Otranto, portando memoria dei suoi 2000 anni di storia. Grazie. 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 Grazie.